Ci vuole maggiore sicurezza e maggiori controlli in tutta la municipalità, ma soprattutto in questo momento, in questa via, in via Sorrento, dove spesso avvengono stese. Ci vuole un presidio ancora più forte e reale del territorio da parte di tutte le forze dell'ordine, da parte dei vigili urbani e quindi del comune di Napoli. Questo è il primo punto. Secondo punto, videosorveglianza nella scuola e attorno alla scuola. Terzo punto, ci vuole assolutamente, chiaramente non vale solo per questa scuola, un piano di sostegno vero alle famiglie e dall'altro lato un piano di assunzioni enormi di assistenti sociali. Il presidente della Camera Roberto Fico è arrivato questa mattina a Rione Villa, nella periferia est di Napoli, nell'ora in cui i genitori accompagnano i figli a scuola. L'istituto Vittorino da Feltre, il plesso davanti al quale il 9 aprile scorso, un pregiudicato 57enne Luigi Mignano è stato ucciso sotto gli occhi del nipotino di tre anni. Fico ha sottolineato che serve un patto sociale per arrivare alla svolta e battere la camorra in un quartiere in cui esistono energie incredibili. L'allarme sulla pericolosità della situazione lo lancia la dirigente dell'istituto, Valeria Pirone. Nessuno di noi qui è abituato a questo tipo di immagine, è un'immagine bruttissima, anche perché appena noi siamo arrivati, cioè subito, la scena si presentava cruda, nuda, così com'era. Ancora non c'era un lenzuolo, una coperta, non c'era nulla e quindi i bambini hanno visto. Quando poi i genitori ti dicono ho paura, non mando il figlio a scuola, non voglio che esca nel giardino, non voglio venire al precetto pasquale perché ho paura di fare questo tratto a piedi, non voglio venire oggi pomeriggio al progetto perché pomeriggio se cala il sole e io ho paura, è come vanificare il lavoro di tanti e di tanti anni.